Il nostro obiettivo è quello di supportare gli agricoltori nella gestione in rigua del mais e allo stesso tempo di aiutarli nella conservazione delle risorse naturali. La soluzione Aquatec insieme alla genetica Decalb mi ha permesso di aumentare le produzioni e la qualità nella mia azienda. L'obiettivo di Aquatec è cambiare il modo di produrre mais. Oggi, attraverso l'innovativa genetica Decalb e i più moderni sistemi di fertilizzazione, è possibile produrre fino e oltre 200 quintali ettaro di mais e questo in maniera sostenibile e redditizia. Per vincere le sfide che ha l'agricoltura nel futuro dobbiamo continuare ad offrire soluzioni che permettono agli agricoltori di produrre in modo più efficiente e in modo sostenibile, sostenibile economicamente, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale. Aquatec è una di queste soluzioni.